ciao a tutti ragazzi sono io il gran papyrus e sono tornati in questo nuovo compagno di mortal kombat sass svegliati improvvisato ma perché mi becco sempre questa qui oh io non so sarebbe di scorpion specialmente c'è la versione imposseduto no la versione infernale tastica smettro di giocare sa mi rifiuto 3 giustizia fa un culo il dialoghi ahahah non è fatta se ne è che piaccia a me ti lamenti pure io dovrei lamentarmi invece alas e prende il colpione aiuto stop please aia muori madre mia cosa ha fatto schifo ooo sass mettila mi parlo in giro no no bene si fare la storia fare la storia mi è piaciuto molto no no muori no devi morire subito mmm sono vivo sono vivo sono vivo no no sis come fai a essere così nerd no devi prepararmi delle mosse no 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 di qualcosa si stanno spaventando i fan perchè si stanno spaventando non lo so perchè pensano che le loro cuffie vanno male e non sentono l'audio ah no invece siamo noi che non parliamo vero è tanto che... bisogna concentrarsi sass mettila subito no cos'è questa cosa sss alfis mi ha prestato sul drone no ok un'altra ok un'altra basta andiamo in pausa ok andiamo in pausa d'attentuoè maledetto avete presente una stopra ragazzi questa cosa è quello che sta per succedere povero papyrus è tempo di rap aiuto maledetto nooo non veniamo di un po' nel gioco ho perso non ci ha perso no no devi inventarmi qualcosa no 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 non non sei morto non bisogna di supporto sii sii muori sas round 2 fight questo personaggio è davvero un bravo ma perché non funzionano cosa no muori muori come hai fatto no danno no imperdonabile sas come fai no 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 calcetto sullo stingo maledetto ora si deciderà molto bene ha si fammi dannaci da colpermi gioco di verde cosa dannazione ho fatto muori ancora maledizione muori ancora 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 non ha finito avanti no 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 ma non sei morto che strano ah mi imperdonabile sas come hai usato hai voglia di un'altra no si si l'ultima 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 ha che curiosa situazione Stesso personaggio Stessa variante Sono curioso di sapere che si dicono Minceremo entrambi Vediamo cosa si dicono Non mi piace Non ti deve dire Diamoci da fare Cosa? Cosa? E' il tuo clone E' il tuo clone Come i clone Stesse mosse Che mosse ha? Queste qui Spammino Forte Non va Non va È bella cazzuta Questa donna Undine La versione umana di Undine Questa qui Ma te li essersi? Sè Lenzo Lenzo Che cazzo stai dicendo? Non lo so io Nooo Via No Cosa? Inutile Questa cosa? No Calcetto sullo stinco Calcetto sullo stinco Calcetto sullo stinco Stavo andando bene Tiralo Intero con uno calcetto sullo stinco Anche questa volta Non lo andiamo bene Come sempre Sono io il sensazionale Anfetto Come hai fatto a colpirmi? Magia Ok E' finito Un attimo Bene Mi si ha potenziato E' arruinato Non potevi fare nulla Non poteviare Molta Ti 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 Ai . Mi 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 Autore Pega Non Ro Funkar no mandami gioco di merda muori non ti lamenti quando vinci però hai finito che mi fa male la testa così l'ho fatto l'ha fatta a caso che sono io? che sono io? che sono io? maledizione no 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 come hai fatto a colpirmi? sas muori quante volte ci hai dovuto riprovare muori ancora sas questi giochi ragazzi rovinano le amigizie questi giochi rovinano il mondo basta smentila qua questi giochi ti staccano veramente molto a parlare ciao ci vediamo al prossimo video ciao ciao